Benvenuti al programma è Tempo di Scienza e alla terza e ultima puntata dell'intervista con il fisico Simone Baroni in cui parliamo di come il tempo rallenta vicino ad oggetti con massa e della connessione tra la gravità e lo spazio-tempo. Benvenuto Simone! Grazie a voi per l'invito! Simone, cominciamo con un rapidissimo riassunto di quel che abbiamo imparato nelle prime due puntate? Tra l'altro questo è l'ultimo episodio della serie sul tempo. Esattamente! Ciao! Questa è la terza puntata sulla relatività generale ed è anche l'ultima puntata della serie sul tempo. In realtà, viste le tante belle domande che mi state scrivendo nei commenti, c'è spazio e c'è tempo? Va tutta da fisico, non ho resistito. Insomma, c'è spazio-tempo per continuare il nostro viaggio con un video di approfondimento. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a guardare anche le puntate precedenti e a porre le tue domande nei commenti. Su queste domande costruirò un video in cui elaborerò le risposte. Insomma, creeremo il video insieme! Ed ora, ritorniamo alla relatività generale. Ecco un riassunto velocissimo delle prime due puntate, così poi parliamo dei risultati della relatività generale. Nella prima puntata abbiamo visto come nel 1905 tre enigmi attenagliavano gli scienziati. Il mistero è quello dell'origine della gravità che nessuno conosceva. Il conflitto, invece, era quello tra la relatività ristretta e la gravitazione di Newton, che prevede una forza di gravità che agisce a distanza a velocità infinite, violando quindi il limite massimo della velocità della luce. Infine, l'enigma più importante è l'enigma della relatività generale. Il piano di Einstein era quello di eliminare e stirpare le astrodità logiche annidate nella relatività ristretta e creare così una teoria più generale, in cui qualsiasi osservatore, anche se in moto accelerato, potesse descrivere correttamente le leggi di natura. Grazie al bellissimo esperimento mentale dell'ascensore tirato da una fune e al famoso indizio trascurato fin dal 1590, Einstein formula quindi il principio di equivalenza, ricordi? Grazie al quale capisce che la gravità è l'ingrediente per costruire la chiave per sbloccare i tre enigmi. Nella seconda puntata abbiamo poi visto come Einstein costruisce la chiave dei tre enigmi utilizzando un altro geniale esperimento mentale, quello del disco rigido rotante. Studiando il moto accelerato con i nuovi occhi della relatività ristretta e del principio di equivalenza, Einstein costruisce una chiave basata su una nuova teoria della gravità e completa così il suo piano e risolve i tre enigmi. Ed eccoci finalmente arrivati ai risultati di questa meravigliosa teoria della relatività generale e al piano di oggi. Questi sono sei dei principali risultati della relatività generale. Quasi tutti stravolsero la nostra visione del mondo dai piccoli dettagli sulla Terra fino a colossali eventi alla scala cosmica. Prima di tutto, oggi vedremo con esempi concreti come le masse e l'energia rallentano il tempo e come curvano lo spazio. Ho anche preparato un file Excel che ti metto a disposizione gratuitamente nella descrizione del video con cui puoi calcolare anche tu di quanto rallenta il tempo vicino alle masse con tanti esempi. Oggi parleremo anche di buchi neri e capiremo se il tempo si ferma davvero all'orizzonte degli eventi di un buco nero. E vedremo anche come la relatività generale riesce a spiegare fenomeni prima misteriosi e inspiegabili ma che ora trovano il loro posto nella logica del mondo. Infine, per sapere tutto sull'esistenza delle onde gravitazionali, su cosa succede quando ci attraversano e su come le possiamo usare per scrutare l'universo, ti rimando a quest'altro video. Mentre lascio la discussione sull'espansione del cosmo per una serie a parte, tutta dedicata alla cosmologia e all'origine, evoluzione e futuro dell'universo. Siamo pronti? Cominciamo dalla curvatura dello spazio. Nel 1915 Einstein espone la relatività generale per la prima volta e una delle previsioni di questa teoria è che le masse piegano la luce, o meglio, le masse piegano lo spazio-tempo e la luce, percorrendo uno spazio-tempo curvo, segue traiettorie curve. Si chiama effetto di lente gravitazionale. Ecco cosa accade. Immaginiamo un osservatore sulla Terra che osserva in direzione del Sole. Senza effetti di curvatura dello spazio, sarebbe impossibile per lui o per lei vedere una stella che si trova giusto dietro il Sole. Ma siccome il Sole ha massa e le masse curvano lo spazio, lo spazio nelle vicinanze del Sole diviene curvo e un raggio di luce che percorre uno spazio curvo finirà per seguire una traiettoria curva. Perché si chiama lente gravitazionale? Perché la luce converge, come succede, in una lente di ingrandimento e infatti ha anche un effetto di ingrandimento che può arrivare fino a dieci volte. Cosa vede dunque l'osservatore sulla Terra? Prendiamo una stella che, in assenza di qualsiasi deviazione della luce, apparirebbe proprio di fianco al Sole. Un raggio di luce parte dalla stella, passa a filo del Sole e raggiunge l'osservatore sulla Terra. Nel cielo la stella ci appare proprio vicino al Sole. Ma in presenza di curvature dello spazio i raggi vengono curvati e i raggi di luce che arrivano sulla Terra ci fanno apparire la stella in quest'altra posizione del cielo. La stella ci appare cioè più lontana dal Sole. Quindi dalla Terra vediamo la stella sotto un angolo diverso. Einstein predisse il valore di tale angolo nel 1915 ed Eddington e Cromlin partirono in missione per misurarlo nel 1919. E questa è la primissima foto in assoluto di una lente gravitazionale scattata il 29 maggio del 1919 dagli astronomi Eddington, Dyson, Davidson e Cromlin. Una foto storica che io trovo personalmente molto emozionante. Questa foto conferma che l'immagine di queste stelle è stata spostata proprio dalla curvatura dello spazio e che l'angolo è proprio quello predetto dalla relatività generale di Einstein. Queste stelle infatti si osservano in posizioni più allontanate tra loro rispetto a quando si osservano le stesse stelle di notte. Immagino che dal 1919 ad oggi si siano osservati poi molti altri casi di lente gravitazionale. Esatto, e molte bellissime foto sono state scattate usando il telescopio Hubble in orbita intorno alla Terra che ci ha rivelato le famose immagini ad arco tipiche di questo effetto di lente gravitazionale. Infatti, se invece di una stella osserviamo la luce di un'intera galassia lontana e questa luce passa vicino ad un ammasso di stelle che curva lo spazio, l'immagine della galassia lontana viene curvata e deformata fino ad assumere una forma d'arco. Addirittura si possono creare molteplici archi della stessa galassia perché la luce può passare da più lati, essere curvata e raggiungere la Terra. Ecco un bellissimo esempio, il mio preferito. Questa è una porzione di spazio chiamata Abel 370. Contiene centinaia di galassie a 4 miliardi di anni luce dalla Terra. E queste galassie curvano lo spazio e curvano la luce delle galassie che si trovano dietro di loro. Vedi tutti questi archi? Sono immagini di galassie ancora più lontane la cui luce è curvata e distorta. Questa forma si chiama il dragone. Il dragone è in realtà composto da molti archi della stessa galassia che si trova dietro Abel 370. E per esempio, qui vi è di altri due esempi di altre immagini ripetute più volte dalla lente gravitazionale. Addirittura, se l'allineamento della lente è molto preciso, l'immagine della galassia distante viene distorta in un anello chiamato Anello di Einstein. E cosa ci insegnò invece la foto del 1919? La foto del 1919 confermò per la prima volta nella storia che le masse curvano lo spazio. Come vedi, il Sole è oscurato dalla Luna. Si è dovuto fotografare il Sole durante un'eclisse totale in modo da non accecare le lastre fotografiche con la luce diretta del Sole ed essere in grado di vedere la fioca luce delle stelle in pieno giorno. Einstein predisse questo fenomeno nel 1915. Perché ci vollero quattro anni prima di confermarlo sperimentalmente? A parte che era appena scoppiata la guerra che impediva di realizzare qualsiasi spedizione per osservare un'eclisse bisognava anche aspettare l'eclisse giusta. L'eclisse del 1919 era perfetta per due ragioni. Era un'eclisse totale e anche perché il Sole era allineato esattamente con le stelle delle Iadi una massa di stelle nella costellazione del Toro. Le puoi trovare cercando le costellazioni di Orione e del Toro nel cielo per orientarti. Tante stelle vicino al Sole significava infatti una maggiore probabilità di osservare l'effetto della lente gravitazionale su numerose stelle diminuendo così anche errori sistematici di misura. Appena finita la guerra nel 1918 gli astronomi si misero all'opera per organizzare la spedizione. L'eclisse era totale solo se osservata da questa fascia del pianeta Terra. Eddington si diresse dunque all'isola di Principe in Africa e Cromlin a Sovral in Brasile. Ecco una foto della strumentazione che si portarono appresso. Osservavano il Sole attraverso uno specchio in modo da poter tenere i pesanti telescopi in posizione orizzontale. Nel novembre del 1919 presentarono i risultati a Londra e la notizia finì su tutti i giornali del mondo. Einstein aveva ragione. E questa è una bellissima immagine creata dall'artista Anna Kova. Trovate il link di Anna Kova e della rivista nella descrizione del video. Rappresenta lo sforzo congiunto di Einstein e degli astronomi guidati da Eddington per dimostrare che la curvatura dello spazio predetta dalla relatività generale era corretta e che tale curvatura era reale. Un fatto molto poco conosciuto è che anche la teoria della gravitazione di Newton prevedeva che la luce venisse deviata dalle masse. Ora capiamo per bene cosa vuol dire questo. Prima di tutto, la relatività generale di Einstein prevede una deviazione doppia della luce rispetto alla teoria di Newton. Per un raggio di luce che proviene da distanze molto grandi e che passa a filo del Sole la teoria di Newton prevede una deviazione della luce di 0,87 secondi d'arco ovvero circa 0,24 millesimi di grado mentre Einstein prevede una deviazione esattamente doppia. È una deviazione piccola da vedere a occhio nudo ma misurabile. Ora ti chiederai com'è possibile che Newton prevedesse che la luce viene deviata dalle masse? La teoria di Newton non contempla infatti la curvatura dello spazio. Devi sapere che Newton nel 1704 ipotizzò che la luce fosse composta da particelle quelle che ora chiamiamo fotoni. Secondo questa visione particellare della luce la gravità dovrebbe attirare questi fotoni deviandone il percorso, curvandone il percorso. Aspetta un attimo, ma se i fotoni non hanno massa come poteva la teoria di Newton prevedere che la gravità attirasse i fotoni. Perché secondo la teoria della gravità di Newton una particella proveniente da distanze infinite che entra nel raggio d'azione di un corpo massiccio subisce una deviazione che è indipendente dalla massa della particella, quindi Newton pensò bene di applicare l'effetto anche ai fotoni. In realtà Newton non effettuò nessun calcolo, ma nel 1804 il fisico tedesco Soldner pubblicò un articolo in cui calcolava quanto verrebbe deviata la luce secondo la teoria di Newton. Ti lascio il link all'articolo di Soldner se sei curioso di vedere il calcolo completo. L'esperimento di Eddington del 1919 aveva dunque il compito di misurare questo angolo e decidere chi avesse ragione. Questo è un grafico che riassume le previsioni delle due teorie e tra un attimo vedremo cosa ottenne l'esperimento. Sull'asse orizzontale abbiamo quanto i raggi di luce passano vicino o lontano dal Sole. Verso destra l'effetto è più forte ed è massimo quando la luce passa tangente al Sole dal punto di vista della Terra. Sull'asse verticale c'è l'angolo con cui viene deviata la luce in secondi d'arco. Questa linea tratteggiata blu rappresenta la previsione secondo Newton mentre Einstein prevede un effetto doppio che vedi con la linea continua blu. Ed ecco in verde i risultati ottenuti dall'esperimento del 1919. L'esperimento decretò che la relatività generale aveva ragione. Infatti, in un esperimento vi sono sempre errori di misura e non ci si aspetta che i risultati sperimentali coincidano esattamente con la teoria. E il valore sperimentale di 1,98 secondi d'arco con un errore di 0,12 decreta che la previsione di Einstein è compatibile con l'esperimento. Molti esperimenti furono rifatti nelle decadi successive e confermarono questi risultati con maggiore precisione. Fu così che nel novembre del 1919 Einstein divenne improvvisamente famoso in tutto il mondo. Tutti i giornali del mondo parlarono di una nuova teoria della gravità dopo secoli di dominio di Newton. Ebbene, qui arriva un momento un po' colosco nella vita di Einstein. Nel 1911, Einstein calcola infatti la deviazione e per un errore di calcolo tale deviazione risulta essere uguale a quella della teoria di Newton. Einstein si accorge poi dell'errore nel 1915, lo corregge e prevede una deviazione doppia rispetto a Newton. Mi chiedo cosa sarebbe successo se si fosse osservato un'eclisse prima che Einstein correggesse i suoi calcoli. Forse la reputazione di Einstein ne avrebbe risentito? Questo effetto di lente gravitazionale viene sfruttato in qualche modo negli esperimenti attuali? Assolutamente! Ti mostro due esempi molto interessanti. Ecco delle foto di alcune quasar pubblicate nel gennaio del 2020. Un quasar è un centro luminoso di una galassia. È molto luminoso perché è alimentato da un buco nero supermassiccio. Qui a destra vediamo sei fotografie, ognuno di un quasar diverso, ognuna distorta da una lente gravitazionale. Siccome quasar galassia e pianeta Terra sono estremamente allineati in questo caso, la luce del quasar si moltiplica per 4 come vedi nello schema a sinistra. In questo caso la galassia intermedia ha un forte contenuto di materia oscura che deforma le immagini. Puoi pensare alla galassia come a una lente e alla materia oscura come delle piccole crepe sulla lente che deformano le immagini. Studiando la deformazione possiamo capire come sono fatte le crepe sulla lente, ovvero come è distribuita la materia oscura. Grazie a questo esperimento si è capito che la materia oscura è in grado di formare agglomerati molto più piccoli di ciò che si pensava. Gli agglomerati che hanno distorto queste immagini per lente gravitazionale hanno una massa di 10.000 o 100.000 volte più piccola della Via Lattea e sono stati battezzati materia oscura fredda. E qual è secondo esempio che avevi in mente? Proprio come una lente ottica, una lente gravitazionale permette di ingrandire gli oggetti lontani fino a 10 volte. Qui vedo uno zoom nella fotografia più dettagliata mai scattata da un telescopio. Si è potuti arrivare a fotografare oggetti molto lontani nello spazio anche grazie agli effetti della lente gravitazionale, oltre a un tempo di esposizione altissimo. E siccome osservare più lontano significa osservare più indietro nel tempo, la lente gravitazionale consente di osservare addirittura le prime galassie che si sono formate nell'universo. In quest'altro video ti racconto come le più recenti osservazioni astronomiche ci mostrano le galassie più antiche mai osservate. Ed eccoci arrivati finalmente al rallentamento del tempo. Le masse curvano lo spazio-tempo e curvare il tempo, abbiamo visto, significa che il tempo scorre più lentamente laddove il campo gravitazionale è più intenso. Ti propongo un'avventura, un cammino attraverso situazioni di campo gravitazionale sempre più intenso, quindi di rallentamento del tempo sempre più intenso. Cominciamo dal rallentamento del tempo sulla Terra. Il campo gravitazionale terrestre è più intenso al livello del mare che in montagna, quindi il tempo scorre più lentamente a livello del mare che in montagna, ma addirittura alcuni esperimenti hanno dimostrato che se sincronizziamo due orologi atomici, entrambi su un tavolo, e poi spostiamo uno dei due orologi sul pavimento, l'orologio sul tavolo andrà più veloce di quello sul pavimento. Proprio perché sul tavolo l'orologio è più lontano dalla Terra, di un metro, e quindi la curvatura dello spazio-tempo è più debole. Perché un orologio atomico, dirai tu? Perché ha una precisione molto alta. Infatti, calcoliamo di quanto scorre più veloce il tempo sul tavolo rispetto al pavimento. Questo è l'Excel con i calcoli di relatività che ti regalo insieme a questo video. Risulta che per ogni secondo passato sul pavimento, sul tavolo passano 0,1 milionesimi di miliardesimi di secondo in più. Se lasciamo i due orologi lì per cento anni, quello sul tavolo segnerà 0,34 milionesimi di secondi in più. È un effetto bassissimo, per due ragioni. La massa della Terra non è abbastanza grande da creare una forte curvatura dello spazio-tempo. E la differenza di altezza tra i due orologi è piccola. Aumentiamo l'altezza, allora. Se io vivessi in montagna tutta la vita, invece che a livello del mare, il mio tempo passerebbe ancora più velocemente. Sì, tecnicamente sì. Anche se gli effetti sono molto piccoli, dall'ordine del millesimo di secondo nell'arco di un'intera vita. Più la montagna è alta, più ci si allontana dal centro della Terra e più il tempo passa velocemente. Ma anche vivendo su una montagna di 4.000 metri, passerebbero circa 1,3 millesimi di secondo in più nell'arco di cento anni. Gli effetti sono già più intensi per i satelliti intorno alla Terra. Senza una correzione opportuna dovuta a questa differenza nello scorrere del tempo tra qui e i satelliti intorno alla Terra, i GPS, per esempio, non potrebbero funzionare. Queste sono le orbite intorno alla Terra che seguono i vari satelliti, telescopi e anche la Stazione Spaziale Internazionale. Vi sono qui due effetti opposti. Più un satellite si trova lontano dalla Terra, più il tempo passerà veloce rispetto a noi che siamo sulla superficie del pianeta. Ma attenzione! Questi satelliti si muovono rispetto a noi sulla superficie e, come abbiamo visto nel video sulla relatività ristretta, questo implica che il tempo passi più piano rispetto a noi sulla superficie. Ecco il calcolo completo effettuato nel foglio di Excel. In orizzontale abbiamo la distanza dei satelliti dal centro della Terra. In verticale quanto il tempo accelera o rallenta rispetto a noi che siamo sulla superficie. Prendiamo due esempi. La Stazione Spaziale Internazionale orbita circa 400 chilometri dalla superficie. L'effetto della curvatura dello spazio è troppo piccolo e il tempo scorre più lentamente a causa dell'alta velocità della stazione rispetto al suolo terrestre, 27.000 chilometri all'ora. Ogni 100 anni la stazione accumula 0,1 secondi di ritardo. Per i satelliti GPS invece il tempo scorre più velocemente perché orbitano così lontano dalla Terra, a 20.000 chilometri della superficie, che la curvatura dello spazio è molto più debole. Inoltre la loro velocità è anche più bassa, 14.000 chilometri all'ora. Ogni 100 anni un satellite GPS accumula 1,7 secondi di anticipo. Gli orologi sui satelliti GPS sono appositamente rallentati per controbilanciare questo effetto. E' ancora un effetto troppo piccolo? Passiamo al livello successivo. Passiamo al campo gravitazionale del Sole, che è molto più forte di quello dalla Terra. Ad ogni momento riceviamo luce dal Sole. E' forse possibile che questa luce subisca gli effetti del rallentamento del tempo causati dal campo gravitazionale del Sole? Ebbene sì! La luce infatti è un'onda elettromagnetica. E la luce è campo elettrico e magnetico che oscillano continuamente. E se il tempo rallenta a causa del campo gravitazionale del Sole, l'onda elettromagnetica della luce oscillerà con meno frequenza, cioè oscillerà più piano. E la frequenza di oscillazione della luce non è altro che il suo colore. La luce viola è campo elettromagnetico che oscilla con più alta frequenza della luce rossa. E questo significa anche che la luce viola è più energetica di quella rossa. E che tipo di radiazione troviamo se andiamo oltre il rosso ed il viola del visibile? Dal lato ultravioletto arriviamo a radiazioni elettromagnetiche molto forti, raggi UV, raggi X e raggi gamma emessi per esempio da materiale radioattivo. La luce oscilla anche sempre più velocemente. Dal lato infrarosso invece, l'energia della radiazione diviene sempre più piccola. Luce infrarossa, poi le microonde e le onde radio. La luce oscilla anche sempre più lentamente. Quindi la luce che esce dal sole oscilla sempre più piano a causa della curvatura dello spazio-tempo causata dal sole. La luce cioè diventa sempre più rossa. Si chiama spostamento al rosso gravitazionale, redshift gravitazionale in inglese. Un altro modo di vedere la cosa è che i fotoni devono uscire dal pozzo gravitazionale del sole, devono usare dell'energia per allontanarsi dalla zona a maggiore curvatura del sole. Ma la luce viaggia sempre alla stessa velocità, quindi l'unico modo di perdere energia è di continuare a muoversi alla stessa velocità, ma vibrando con meno frequenza. Mi sembra un effetto molto strano e lontano dalla realtà, no? Eppure sono sicuro che l'hai sentito più volte anche tu. Quando un'ambulanza o un camion dei pompieri si avvicina verso di noi, con le sirene spiegate, il suono della sirena è più acuto. E quando si allontana, il suono della sirena diventa più grave. Immagina un camion dei pompieri fermo a una certa distanza, ma con le sirene accese. Il suono della sirena è un'onda che si propaga dal camion dei pompieri fino al tuo orecchio. È un'onda che oscilla con una certa frequenza e tu percepisci un suono preciso. Ora immagina che il camion si muova tutta birra verso di te. Le onde sonore saranno più fitte perché ad ogni picco successivo dell'onda il camion si è avvicinato. È per questo che senti un suono più acuto, mentre quando il camion è passato sentirai un suono più grave perché il camion si allontana e l'onda oscilla più lentamente. Questo effetto si chiama effetto Doppler ed è quindi causato dal fatto che chi emette il suono si muove rispetto a chi ascolta. Questo esempio però riguarda il suono, mentre noi prima parlavamo della luce del sole. Non sono due effetti diversi? Ottima domanda. L'effetto Doppler, causato dalla velocità, si osserva anche per la luce. Guarda, immagina una lampadina di color giallo che si muove verso un osservatore e si allontana da un altro. Per effetto Doppler, la luce oscillerà più velocemente o più lentamente per i due osservatori. Vedranno cioè la luce più rossa o più viola. Insomma, abbiamo visto due modi in cui la luce può diventare più rossa. Uno, perché la sorgente si allontana da chi osserva. Due, la luce attraversa zone di spazio curvo dove il tempo scorre più piano rispetto a chi osserva. Questo succede per la luce che proviene dal sole, per esempio. Il 18 settembre del 2020 è stato pubblicato un articolo in cui si misura il redshift gravitazionale del sole con altissima precisione, e questo valore conferma le previsioni della relatività generale di Einstein. Il redshift gravitazionale del sole vale 638 metri al secondo, ovvero 2296,8 km all'ora. Cosa vuol dire? Significa che se volessimo ottenere lo stesso redshift con una lampadina in movimento, invece che con la curvatura dello spazio dovuto al sole, la lampadina dovrebbe allontanarsi da noi alla velocità di 2296,8 km orari. E ora portiamo il rallentamento del tempo all'estremo. Si sente spesso dire che il tempo si ferma all'orizzonte degli eventi di un buco nero. È vero? In questo documentario sui buchi neri simuliamo l'avventura di un astronauta che si avvicina ad un buco nero fino ad entrarvi. Oggi approfondiamo il rallentamento del tempo man mano che ci si avvicina al buco nero fino all'orizzonte degli eventi. Oggi rivisitiamo l'esperimento mentale di Albert e Lewis in una chiave diversa e ci concentriamo sul rallentamento del tempo. Prima di tutto Albert e Lewis sincronizzano gli orologi sull'astronave, poi Albert lascia l'astronave e scende verso il buco nero. Non è molto contento di farlo, ma si sacrifica per noi di pepita di scienza. Si tratta del buco nero supermassiccio M87 star, con una massa di 6,5 miliardi di volte, quella del nostro Sole, e un raggio dell'orizzonte degli eventi di 19 miliardi di chilometri. Questi sono i dati utilizzati per i calcoli che ora ti presento. Quando Albert si trova a un miliardo di chilometri dall'orizzonte degli eventi, il tempo già scorre un 78% più piano rispetto ad un punto con un piccolo campo gravitazionale, per esempio rispetto a Lewis sull'astronave. Cioè se Albert resta un'ora in questa posizione, sull'astronave saranno passate più di otto ore. Cosa vuol dire questo esattamente? Che dal punto di vista di Lewis il tempo per Albert scorre più piano. Per esempio, se Lewis osserva l'orologio di Albert con un telescopio, vedrà l'orologio andare più piano di quello dell'astronave. Oppure se Albert manda un segnale luminoso verso l'astronave ogni minuto, Lewis vedrà arrivare il segnale a distanza di otto minuti tra loro. Questo è importantissimo, teniamolo a mente. Più ci avviciniamo, più il tempo passa lentamente. A centomila chilometri dall'orizzonte, un'ora per Albert corrisponde a diciotto giorni, sei ore e dieci minuti sull'astronave. E a mille chilometri dall'orizzonte, un'ora per Albert corrisponde a centottantadue giorni, tredici ore e quaranta minuti sull'astronave. E infine, quando Albert sta per raggiungere l'orizzonte degli eventi, dal punto di vista di Lewis, il tempo di Albert rallenta vertiginosamente. Lewis vede Albert allontanarsi sempre più piano, lo vede rallentare, e lo vede anche sempre più fiocco, perché arrivano sempre meno fotoni da Albert. Proprio perché vicino all'orizzonte degli eventi, Lewis vede il tempo fortemente rallentato. Finché, sempre dal punto di vista di Lewis, l'immagine di Albert sembra congelarsi all'orizzonte degli eventi, e piano piano diventa sempre più fiocca. Questo ci porta al paradosso numero uno. Secondo Lewis, Albert non entrerà mai nel buco nero. Secondo Lewis, qualsiasi cosa si butti verso il buco nero rimarrà immobilizzata all'orizzonte degli eventi. Ma sappiamo che i buchi neri fagocitano tutto ciò che viene dato loro in pasto. Per esempio, nel 2015 abbiamo osservato per la prima volta la fusione di due buchi neri, l'uno è entrato nell'altro a formare un buco nero più grande. Chi ha ragione quindi? Vediamo cosa osserva Albert. Dal punto di vista di Albert, il tempo scorre normalmente. Il suo orologio continua a ticchettare, le sue pulsazioni sono costantemente di 60 al minuto. Albert è un tipo in forma. Questa visione è compatibile con l'osservazione che i buchi neri inglobano veramente massa ed energia. Ma ora abbiamo due paradossi. Il secondo paradosso è che a seconda di chi osserva, il tempo per Albert si ferma oppure no. E chi ha ragione, Albert o Lewis? La soluzione è che entrambi hanno ragione. Infatti, dentro l'orizzonte il tempo diviene una dimensione spaziale. In altre parole, avanzare nel tempo significa avanzare verso il centro del buco nero. Quindi, prima di tutto, Lewis e Albert non potranno mai confrontare le proprie esperienze e constatare che sono completamente diverse. In secondo luogo, per i buchi neri vale il principio di complementarità, per cui non è possibile effettuare un'osservazione del buco nero da fuori l'orizzonte e allo stesso tempo da dentro. O si osserva da fuori, o si osserva da dentro. Approfondiremo questo concetto in un video speciale. La cosa importante è che le leggi di natura impediscono di osservare il buco nero sia da dentro che da fuori l'orizzonte allo stesso momento. E questo salva la situazione. Una nuova teoria della gravità, come la relatività generale, che estende la teoria della gravitazione di Newton, non solo deve essere capace di predire nuovi fenomeni, come per esempio l'esistenza dei buchi neri o delle onde gravitazionali, poi misurate sperimentalmente. Una nuova teoria della gravità deve essere anche in grado di spiegare quei fenomeni già osservati, già conosciuti, ma che la precedente teoria non era in grado di spiegare. Hai in mente un esempio concreto? Esattamente. La relatività generale descrive il moto dei pianeti intorno al Sole in modo diverso dalla teoria di Newton. Prendiamo il sistema solare. Lontano dal Sole, la curvatura dello spazio-tempo è più debole. E dove la curvatura dello spazio-tempo è più debole, le leggi di Newton danno risultati molto simili alle leggi della relatività generale. Per esempio, possiamo calcolare l'orbita della Terra intorno al Sole usando la gravità di Newton o la relatività generale e otterremmo valori molto simili. In fisica si dice che la nuova teoria estende la precedente perché le danno gli stessi risultati in situazioni di curvatura debole. Ora avviciniamoci al Sole e consideriamo Mercurio. Qui la teoria di Newton non è capace di predire o spiegare l'orbita di Mercurio. Infatti nel 1859 l'astronomo e matematico francese Urbain Le Verrier scoprì che la fisica di Newton non era in grado di spiegare l'orbita di Mercurio. Come vedi in questa animazione, l'orbita non è fissa, ma si sposta ad ogni giro intorno al Sole. Si chiama orbita rosetta perché disegna una specie di rosa. Più tecnicamente l'orbita di Mercurio presenta una precessione del perielio. Perché accade questo per Mercurio? Perché Mercurio si trova in un punto dello spazio con più forte curvatura rispetto alla Terra. Quindi la teoria di Newton non è più valida e abbiamo quindi bisogno della relatività generale. Infatti la relatività generale predice esattamente che ogni 100 anni l'orbita di Mercurio si sposta di 42 secondi d'arco, ovvero di 0,12 millesimi di grado. Allo stesso modo, se orbitassimo intorno ad un buco nero, seguiremmo un'orbita rosetta proprio per la forte curvatura dello spazio-tempo. Magari in futuro questa potrebbe essere una specie di giostra estrema di turismo spaziale estremo. Abbiamo dunque visto come la natura sia disseminata di preziosi indizi che gli scienziati detective possano leggere ed interpretare per creare teorie superiori, con visioni più semplici della natura, che abbracciano più fenomeni della natura e che ci permettono di esplorare ancora di più, ancora più in là, l'universo. Per esempio, le onde gravitazionali predette dalla teoria della relatività generale sono ora uno strumento che ci consente di ascoltare l'universo con nuove orecchie e che ci ha permesso per esempio di scoprire l'esistenza di buchi neri stellari o di osservare la fusione di stelle e di neutroni. E quanti indizi vi sono ancora là fuori da interpretare? E quanti già in bella vista ma trascurati? Ci sono numerosi misteri da risolvere ed altri nasceranno in futuro. Ma la cosa più importante è di non smettere mai di essere affascinati dall'armonia della natura. Simone, grazie mille per questa bellissima chiacchierata sulla relatività generale, sulla gravità e sul perché il tempo rallenta vicino alle masse. Grazie mille a voi di nuovo per l'invito. Iscriviti ora al mio canale proprio qui ed esploreremo insieme tutti gli strati di cui è composto il tempo. Capiremo che cos'è il tempo, perché lo percepiamo in questo modo e in un certo senso essendo noi, esseri che vivono nel tempo, capiremo meglio anche noi stessi. Ciao!